Saltare da un'opportunità all'altra. Oggi voglio leggerti queste poche righe. Costruire un'impresa su desideri effimeri è un po' come correre su un tapirulan che non si ferma mai. Bisogna tenere il passo con i continui cambiamenti delle domande degli utenti. Questa frase è tratta dal libro Catturare i clienti, Hooked, di cui ci ho già parlato tantissimo tempo fa. Ed è una frase interessante perché rispecchia un po' quello che è un modello di business non funzionale. Nel senso che possiamo vedere, se ci guardiamo attorno, ad esempio nel mondo della formazione, dove è pieno di persone che saltano da un argomento all'altro perché hanno un tipo di business che una volta che hanno venduto quello che è il loro prodotto principale si trovano fermi e non possono vendere nient'altro perché chi doveva comprare praticamente ha già acquistato. E quindi sono costretti a rincorrere sempre nuovi clienti e reinventandosi in continuazione. E spesso viene fatto anche in maniera, dal mio punto di vista, assolutamente non etica e in maniera veramente borderline. In ogni caso questo è un elemento da tenere in considerazione per qualunque tipo di attività. Perché se avete un business in cui i clienti acquistano in maniera ricorrente sarà molto più facile farlo crescere perché una volta che abbiamo investito energia e risorse per trovare un nuovo cliente, questo comprerà e acquisterà in maniera continuativa. Al contrario, se abbiamo un business in cui il cliente compra una volta e poi non si vede più sarà molto più difficile farlo crescere. Quindi servono strategie diverse e oggettivamente un business che è anche difficile confrontarlo con uno che ha clienti ricorrenti perché veramente lavorano con due logiche diverse. Ieri, se ti ricordi, ti ho parlato di come Sean Covey suggerisca di avere uno o al massimo due obiettivi principali nel nostro business, nella nostra attività, per riuscire a realizzarli. E quando parliamo di business effimeri la logica è proprio questa. Noi dovremmo focalizzarci su quello che è il nostro obiettivo principale, evitando di saltare da un'opportunità all'altra perché ogni volta ci sembra di vedere l'incredibile opportunità quindi corriamo dietro a quella, poi ovviamente questa opportunità si rivela diversa da quello che ci aspettavamo, ma ne comparo un'altra e di nuovo corriamo incontro alla nuova opportunità. Ed è anche il modo di vivere di molte persone che cercano sempre l'evento scatenante, l'evento che le trasformerà in persone fortunate, persone di successo, insomma, quello che vogliamo, ma non si concentrano su un obiettivo specifico e hanno mille distrazioni. E questo nel business è un problema assolutamente importante. Come dice Angede Marco nei suoi libri, il successo di una persona o di un business non è determinato da un colpo di fortuna, se non veramente per rare occasioni, ma al contrario da una serie di eventi, di processi che noi andiamo a costruire. Cosa significa? Che se entrambi abbiamo lo stesso business e io tutti i giorni mi metto a chiamare a cercare nuovi potenziali clienti, mentre tu tutti i giorni compri un grattevinci, ok potresti avere il colpo di fortuna, sicuramente molto improbabile, ma nel lungo periodo, quindi le azioni che io ripeto in continuazione nel lungo periodo faranno realmente la differenza ed è esattamente lì dove noi ci dovremmo concentrare. Quindi una volta che identifichiamo l'obiettivo, come abbiamo visto anche ieri, non possiamo farci distrarre dalle mille opportunità che il mondo ci propone oggi. Prima di tutto perché la maggior parte non sono reali opportunità se non perché le propone, quindi voi siete i polli da spellare che i truffatori stanno cercando, quindi già questo, diciamo, limita tantissimo. Il punto numero due che secondo me è ancora più pericoloso è che nel momento che sviluppate grandi competenze vi renderete conto che il mondo è realmente pieno di opportunità, ma non riuscirete a raccogliarle tutte perché veramente sono davvero troppe e quindi è importante focalizzarsi sul singolo obiettivo che abbiamo in mente e evitare qualunque tipo di distrazione ma lavorare per raggiungerlo. Quindi evita di saltare da un'opportunità all'altra perché il successo non si trova in questa strada. Con queste tutte, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, te lo rileggo perché mi piace tantissimo questa affermazione, costruire un'impresa su desideri effimeri è un po' come correre su un tapiroulant che non si ferma mai. Bisogna tenere il passo con i continui cambiamenti delle domande degli utenti. Quindi tornando al discorso business, rifletti su questo. Vendi un qualcosa che soddisfa dei desideri effimeri, quindi qualcosa che oggi c'è e domani non c'è più, oppure lavori su un qualcosa di più sostanzioso e di conseguenza il tuo business sarà molto più solido e molto più facile da gestire. Riflettici tra le tue conclusioni. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!